Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 10 al 16 aprile, previsioni e classifica. Benvenuti al nostro video di astrologia di oggi. Oggi parleremo delle previsioni astrologiche per la giornata di oggi basate sul segno zodiacale. Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 10 al 16 aprile. La novità principale della settimana sarà Venere, che entra nel segno dei gemelli. Sarà una settimana di amore sfrenato. Niente coccole e tenerezze, ma proprio una settimana da conigli. In questa settimana il flirt diventa sport nazionale, soprattutto per i segni d'aria. Il segno fortunato sarà proprio l'acquario mentre il più sfortunato il capricorno. Ariete. Tuffatevi nell'amore e vivete emozioni più passionali. Venere sarà dalla vostra parte da martedì e niente potrà essere migliore. Tuttavia, potreste dover rinunciare a qualcosa, quindi decidete bene come andare avanti. Al lavoro, il cielo vi sorride, un nuovo incarico sarà di buon auspicio e dovrete accettare la sfida. Ma non ne avete paura. Siete un po' frustrati, ma le cose miglioreranno col tempo. Toro. In amore, soprattutto se vi siete trovati in una situazione di crisi, siete pronti a riprendervi, pensate ad un nuovo progetto ora che maggio si avvicina. In primavera potrete tornare a sorridere. Al lavoro il cielo è bellissimo e grandi cose promettono di accadere nei prossimi mesi. Non siate a corto di idee, soprattutto se siete giovani, dovete essere coinvolti attivamente. Non arrendetevi, non siete soli. Gemelli. Venere sarà dalla vostra parte da martedì e la vostra vita privata andrà bene. Assicuratevi di dare libero sfogo a voi stessi, soprattutto a partire da venerdì. Non perdete tempo e andate avanti. Al lavoro siete un po' stanchi di fare sempre le stesse cose, quindi cercate di liberare la mente e di risolvere i problemi. Passo dopo passo, piano piano, vi aprirete la strada verso il successo. Cancro. Da marzo non siete sicuri di dover lasciare andare l'amore e non sapete bene come andare avanti. Chi ha da poco chiuso una relazione è provato, stanco e frustrato, ma ha bisogno di riorganizzarsi, reagire e andare avanti. Sul lavoro sono possibili conferme immediate ed è un buon momento per i buoni propositi. Ma attenzione a Giove, è ancora il vostro nemico. Leone. La vita sentimentale è buona e da martedì le giornate migliorano, hai voglia di ricominciare tutto da capo e di provare sensazioni meravigliose. La giornata di giovedì è molto positiva, sei innamorato di qualcuno e davvero interessato. Sul lavoro avete buoni contatti, ma non trascurate le nuove occasioni. Avete bisogno di comprensione e pazienza, insomma, dovrete lasciare andare il vostro orgoglio. Virgine. Avrete voglia di parlare d'amore e di fare chiarezza, soprattutto se qualche situazione vi ha stancato e non vi convince molto. Vorreste dimenticare il passato doloroso, ripartire da zero e imparare dai vostri errori. Cercate di non isolarvi. Sul lavoro è probabile che qualcosa cambi presto, ma per ora la situazione è sospesa, a maggio potrete riprendervi ciò che vi è stato dato. Bilancia. In amore non siete sicuri di essere voi il problema e vi sentite persi. Tuttavia, da martedì venere sarà dalla vostra parte, le relazioni cambieranno in meglio e ci sarà un periodo di calma. Cercate di mantenere la calma e di ampliare le vostre conoscenze. Aprile è un mese di rinnovamento sul lavoro, quindi dovrete mettervi in gioco, ma c'è ancora tempo per capire come farlo. Occorre aspettare. Scorpione. In amore, dovete dimenticare il passato e le delusioni, e chiudere quella porta. Qualcosa è andato storto, ma il peggio è passato e bisogna voltare pagina e ricominciare da capo. Sul lavoro sono in arrivo conferme, ma attenzione ai soldi. Venerdì potrebbe nascere una discussione che dovreste evitare. Sagittario. Martedì venere vi renderà un po' nervosi, quindi dovrete essere cauti nella vostra vita privata. In particolare, tendete ad apprezzare le persone che sono un po' vaghe e non vi dicono nulla di preciso. E avete paura di essere legati mani e piedi. Tenete d'occhio ciò che vi circonda e siate pronti ai cambiamenti. Al lavoro, potete aspettarvi una proroga del contratto, quindi non perdete tempo. Inoltre, concludete un affare entro fine mese, il successo vi aspetta. Capricorno. Se di recente avete messo fine a una storia d'amore, dovete voltare pagina e pensare decisamente a un futuro brillante. Qualcuno vi corteggia? Bene, lasciatevi andare. Potreste commettere l'errore di essere troppo cauti e sulla difensiva, e chi vuole avvicinarsi a voi si terrà a distanza. Sul lavoro, maggio vi sorriderà. Al momento siete ancora un po' bloccati, ma dovete essere positivi. La luna sarà nel vostro segno mercoledì e non vi mancherà il senso di urgenza. Acquario. Avete avuto insicurezze e dubbi in amore, ma il nuovo transito di Venere vi aiuterà. Potete lasciare che l'amore e la passione prendano il sopravvento, ma avete bisogno di muovervi per conoscere nuove persone. Che tipo di incontri farete? Sul lavoro è un periodo positivo, ma non arrabbiatevi se sabato qualcuno cercherà di togliervi la pazienza. Mantenete la calma più che potete. Pesci. In amore, se dovete fare una scelta, è meglio pazientare. Venere passa nel vostro segno e favorisce l'introspezione, ma Saturno introduce una nuova regola, non volete perdere tempo, quindi volete risposte precise dalle persone che vi sono vicine. Ora o mai più è il vostro motto questa settimana. A lavoro le cose vanno bene, ma ora volete solo essere sicuri che la vostra offerta venga accettata. Forza, non arrendetevi. Grazie per aver guardato il nostro video sulle previsioni astrologiche di oggi. Speriamo che tu abbia trovato le informazioni utili e interessanti. Se hai domande o commenti, non esitare a farcelo sapere nei commenti qui sotto. Grazie ancora e alla prossima. Grazie per aver guardato il nostro video.